Materializzato e realizzato, come per magia! Io sono emozionatissima, a parte non mi aspettavo di essere chiamata qua su e ci rimango sempre un po' così però è una location che ti toglie il fiato, è qualcosa di spettacolare ho visto certi abiti, questi ragazzi sono eccezionali, davvero quindi speriamo che possano entrare immediatamente nel mondo del lavoro siamo qui per questo, per farli vedere, per farli vedere in questa location meravigliosa per cui un grandissimo in bocca al lupo, spero che i ragazzi mi sentano, davvero bravissimi Viva la moda e viva San Benedetto del Tronto, grazie! Grazie a tutti, grazie alla CNA, grazie alla Camera di Commercio poi ci penserei tu a ringraziare tutti quanti gli sponsor, grazie, grazie mille a tutti, buona serata All'assessore Laura Camaglioni, alle attività produttive del Comune di San Benedetto del Tronto che ho avuto il piacere di conoscere proprio qualche giorno fa Per uno speciale che prima hai ricordato, non? Sì, esatto